Con la vecchia tecnica della borsa rivestita d'alluminio, un disturbatore di frequenza ed una calamita per rimuovere le placche anti-taccheggio, aveva rubato merce, soprattutto generi alimentari e vestiario, per oltre 3.000 euro. Un croato di 75 anni, con diversi precedenti per furto e ricettazione, è stato denunciato dagli agenti delle volanti della questura di Treviso. L'hanno fermato sabato scorso nei pressi di Ponte San Martino, alla guida di un'auto con targa straniera. La versione contraddittoria, fornita dall'anziano agli agenti, ha portato controlli più approfonditi. E così nell'auto sono stati rinvenuti generi alimentari e capi d'abbigliamento, risultati rubati in negozi delle province di Treviso e Venezia. Nell'auto anche un coltello con lama di 20 centimetri e 700 euro, presumibilmente provento di ricettazione. Il 75enne è stato denunciato per ricettazione, possesso ingiustificato di strumenti a tallo scasso e porto abusivo di armi.